Oh ma... ce l'hai lippi sul PC, eh, in vista? Ce l'hai? No? Non ce l'hai? Ah, ma ce l'hai l'account Facebook, sì, eh? E magari sei anche capace da taggare, eh? Mi piacerebbe vederti taggare, sai? Eh? Sei su Facebook, eh? Sei proprio una civetta sul comò, sì, sì, che faceva l'amore con la figlia del dottore. Vai, vai, sei una civetta sul comò. Insaturante, un sito è incomiabile. Via i tappi.